Stiamo facendo le polpette leccesi. Ingredienti cavoi, vitello, maiale, sale, pepe e uova. Mi devo fare un piattone, se no non bastano. Qua le polpette vanno a ruba. Ogni giorno polpette, pezzetti di cavallo, leccesi si mangiano, la pasta fatta in casa, con le rape, con le cime di rape, con i pezzetti di cavallo, con tutto, con la ricotta forte. Sto facendo i peperoni arrostiti, li puliamo bene bene, poi li puliamo, mettiamo olio, sale e pezzemolo e basta. Sto facendo i pezzi. Vitte le polpette, buon appetito!